Ehi amore, beh ecco, volevo solo salutarti velocemente e dirti che ti amo tanto. Oh, indovina un po'? Sarò di ritorno a casa molto presto, evviva! Ah, non vedo l'ora di farla finita con questa storia della babysitter e di tornare dal mio amato marito. Mi manchi tanto. Ah, ora devo tornare al lavoro. Sappi che ti amo, Ethan, mi manchi molto. Ti mando un mare di baci. Ti amo tanto. Ciao, amore! Ethan. Sì, è vero. Ti ho mentito. Non avrei dovuto, ma quello che posso dirti è che se troverai questo... Stanne! Lontano! Pronto? Ehi, sono... Ethan. Ehi, Ethan. Tutto bene? Sei sparito l'altra sera? Sì, va tutto bene. Però... Mia... non è morta. Lei è viva. È tornata. L'hanno trovata? Ma come? Sul serio? Io non lo so, ma... è tornata. Non so come ha fatto, ma è tornata. Forse è uno scherzo. Vuole che la raggiunga. Ma... ma lei dov'è? Dalve. Dalve è Louisiana. Merda. Ma sono passati tre anni. Lo so, ma se invece fosse davvero lei... voglio scoprire qualcosa in più. Queste macchine automatiche. Il futuro. Non devo... non devo scherzare niente che va tutto lei. C'è un albero. Non mi devo schiantare contro gli alberi, però. Mettiamo in folle. E... prendi le chiavi. Prendi le chiavi. Non le prendo, va bene. E... andiamo a farci sto picnic. Questo è il posto. Yuhu. Andiamo. Che bell'albero. Vabbè, andiamo qua in Louisiana a trovare Mia. Eccola. Qua. Quanto sono belle le mosche e le zanzare. Spero di aver preso un insetticida. Un po' di autam. Guarda il tuo obiettivo. Ok. Permesso. C'è qualcuno. Andiamo di qua. Correndo. Ho già imparato tutto io. Ok. Salve. C'è qualcuno? Accetta il suo dono. Va bene. È permesso? Si può andare? Ancora ste cazzo di zanzare. Orca miseria. Schiefo. Dove è lo spray insetticidabile. Qua si va avanti. Come? Si arrivo. Arrivo. Mi chiamavano di qua. Scusate ma... Devo proseguire di qua. Mi dispiace ma... Corro. Corro tanto. Corro tanto perché... Perché succedono le cose. Poi porca miseria. Dopo adesso... Adesso io parlo con me stesso. Giustamente perché se devo parlare con me stesso. Perché altrimenti... Qua si sente la fauna e la flora. Qua che schifo di alberi. Salve. Dicevo. Dobbiamo andare qua. Nell'entrata. C'è qualcuno qua nell'entrata? Sì o no? Salve. Yuhuu. Aprite. Permesso. Scusate c'è qualcuno? Ah c'è un citofono. Salve. Siamo quali di Zeova. Vorremmo diffondere il nostro merda. E vabbè. Com'è? Eh non si sa. Eh mi sa tanto che... Dobbiamo andare di qua. Eh sì sì sì. Allora corriamo dico io no? Ho detto che qua non ci sono pericoli. E che cacchio. Accettiamo il nostro dono. Sì. Mi sa che lo... Abbiamo già letto questa cosa? Boh. Ste cazze di zanzare. Sicuramente sì. Eh andiamo avanti. Permesso. Salve. C'è la giardiniere qua. Dobbiamo a vedere se riusciamo a trovarlo. Così almeno... Ma eh ci dà le case delle chiavi per entrare. Salve. Com'è? Tutto a posto? Il laghetto condominiale. Molto bello. Molto proprio acquatico con acqua bella pulita. Salve. Salve. Sono qua perché mi hanno mandato. Mi hanno chiesto di venire qua. Per fare una cortesia eh. Salve. Molto bene. Che cos'è? Non si sa. Sono robe. Perfetto. Molto bene. Giustamente. Queste qua sono quelli che si mettono dietro nella macchina dove c'è l'unotto per... Endogacchio permesso per i carabinieri. Salve. E mi alzo. Dico io. C'è qualcuno? Mi sento osservato. Non lo so. Andiamo avanti in questa boscaglia boscagliosa. Stiamo in mezzo alla giungla e all'Amazzonia. E si sente casino. Molto bene. Salve. Perché io devo cadere. Ditemelo. Ascrutiamo qua un attimo il per bene. Prima di fare cacate. E va là. Boom. Salve. Non sono riuscito. Sono una brava persona. Non sono riuscito ad entrare. Però entro da dietro. Esamina in dettaglio. E lei? E fammi. Ah ho preso? Ho preso roba. E mi sa di sì. Ok. Quindi se io faccio track. E email di mia. La stampa delle mail di tua moglie. E questa qua. E la patente. Vediamo bene. Magari dietro c'è scritto qualcosa. Patente appena rinnovata. Con la patente nuova. Perfetto. Perfetto. Tutta sporca. E cazza fa. Salve. La mia moglie. Io sono troppo bello. Sono stato proprio. M'hanno pinzato gli occhi. Perfetto. E andiamo avanti. Salve. Vorrei. Vorrei tentare di entrare. Però non vorrei essere come si dice maleducato. Ecco. Non voglio fare la parte dello stronzo che va. Ma che va dentro senza. Senza. Senza il volere delle persone. Che dopo quelle lì mi sparano. E mi denunzano. Salve. Posso sedermi. Ma posso tirare i colpi. Messo. Signori. Tutto ok? E qua c'è una porta aperta. Perfetto. Salve. Quanto si vede? Qua. Qua. Quanto si può vedere? Proprio da qua. Che si vede? Ah qua. C'è tantissimo. Molto salve. Com'è? Tutto a posto? Sembra di averla anche già vista questa cara. Però boh. Non si sa bene eh. Apriamo qua. Perfetto. Ah. Chiudi. 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 Sia mai che richiamo disturbo senza chiudere le cose. Buongiorno. Com'è? Non ho sentito bene. Per me. Salve. Come va? Qua tutto coso. Tutto chiuso boh. Queste persone non si fidano al giorno d'oggi. Quanto ci può essere casino? Chiudiamo qua. Facciamo le persone educate per cortesia. Che l'acqua il giorno d'oggi costa. Vediamo cosa ci hanno preparato da mangiare. Bello schifo. Cazzo. Cazzo. Pisello. Pisello. Scusate. Apriamo qua. Molto bene. Siamo della fauna locale. Della. Fa. Fauna. Locale. Che sbadato che sono. E qua. C'è un pezzo di roba. Proprio. Mamma mia. Sembra una foto con una pampina. Va bene. Do cacchio è andata la foto della pampina. Ah ma non l'ho presa. Ah. Quei zoom. Non posso farli. Quindi devo stare a debita distanza. E qua. C'è stancazza. Perfetto. Questo ovviamente si apre. Perché se schiaccio X. Perché cosa sto dicendo. Che cos'è X. Salve. Tutto a posto. Leggiamo lo giornale. Più di 20 persone scomparse in due anni. Beh. Dai. Non è una media ragguardevole però. Che poi io. Che cacchio vado. A guardare. Nei cosi qua degli altri. Sono di una maleducatezza. Perché mi viene da guardare qua dietro. Non lo so. E comunque dicevo. È permesso. Scusate. Non vorrei fare il gaglioffo. Il maleducato è ad entrare senza. Senza permesso delle persone. Com'è? È tutto ok? E qua si sentono robe. Perfetto. Salve. C'è qualcosa? No. Dove si va? Dove si va? Questa casa è molto accogliente. Ma perché io so già dove andare? Bah. Sembra un fortissimo DJ Vox. Vabbè. Aviamo qua. È permesso. Tutto a posto. Is. Perché fanno le foto a mia moglie? Svergognata. Questa qua che va in giro si fa vedere nuda. Va bene. Perché fanno le robe sconce? Senza il mio volere? Perché sento robe che si aprono di qua e di là? E io non guardo dietro. È sto cazzo. Manca un fusibile. Proviamo a sostituirlo con la patente. Apriamo sto coso. Molto bene. Molto bene. Oggi non si suona il piano proprio con sto cazzo. Salve. Inseriamo la patente. Non è una videocassetta. Mannaggia. Che c'è sta qua? Pieno di fotografie. Questo sembra tipo una porta di una cella sotterranea al terzo piano. Che bella famiglia. Sembrano i proprietari. Vabbè. Ma... Che c'è sta qua? Tiriamo. Ma guarda te. Ma come mai si è aperto qua? Boh. Permesso. È tutto ok? È tutto a posto? Ma qua c'è una scala. Ma fa un po' te. No. Perché vado giù? Contro il mio volere. Sono imbecillo. Aio. E la madò. Che belle scale. Le scale dell'ottocento sono quelle proprio... Dannazione. Fatte meglio. Ehm... Salve. Come va? È tutto ok? Io sono qua. Sono venuto in casa vostra. E sto cercando delle risposte. Che cazzo. Vengo qua. Che sono venuto dall'Alabama. E vengo qua in Louisiana. Quanto si fa stretto? Sono peggio del sottoscala. Molto bene. Sporchiamoci le mani qua nelle fogne. Sono molto felice. Quanto? Quanto basso? Quanto è ancora più basso? Bene. Proprio... Mamma mia. Che bello. È mondo cazzo. Vado. Ah. Ok. Ma... Perché adesso hanno... Dovevamo chiamare noi? O dovevamo chiamare Tom Spurghi? Eh. Perché non lo so io, eh. Quale bolle? Vabbè. Io mica sono un idraulico, eh. Vi sembro che ho un cappello rosso in testa dei bei paia di baffi? Eh. Mi sa di no. Eh. Scusa, eh. Vabbè. Salve. Perché si spaventa è solo una persona morta per piacere si sposti? Vabbè. Speriamo che non... Che cazzo? Ma... Quello lì si fa in sala moglie. Salve. Cosa mi stanno a indicare queste persone, eh? Chi siete voi? Le cose strane. Eh. Apriamo sta mamma da di porta. Grazie a tutti.